Grazie per essere qui. Devo dire che questo venue, questo luogo rispetto alla fiera, io lo preferisco, è un po' più dispersivo, sembra che le persone siano meno e in realtà siete di più rispetto alle volte scorse. L'elemento principe per fare la trasformazione digitale della scuola, atteso che è ovvio che dobbiamo farla e poi arriva l'intelligenza artificiale, sono i professori, siete voi, nel senso che voi siete gli attori di questa trasformazione. Intorno a ImparaDigitale si coagulano 28.000 docenti volontari, tutti voi siete venuti qui oggi con i vostri mezzi, con le vostre risorse pagandovi le vostre trasferte da Campobasso eccetera e avete sottratto tempo al vostro lavoro. Quindi questa, la prima cosa per la trasformazione digitale è la motivazione di tutti i docenti, di professori e quindi quello che fate e io vi devo dire, vi ringrazio per quello che fate. Poi il governo avrebbe bisogno, cioè ci sarebbe bisogno di una maggiore sensibilità, come ha già detto Luca e nella direzione in cui diceva prima Diego, della contaminazione e della trasversalità. Ci vorrebbe decisamente una maggiore attenzione e convinzione da parte dei vertici, da parte del governo, da parte del ministero, che deve essere una cosa continuativa, non può essere episodica, non è che ogni volta che cambia un governo si cambia completamente direzione. Queste qui sono fenomeni, oltretutto basta guardare quello che accade nel mondo, vedi delle best practice e poi segui delle linee, non è che non bisogna cambiare. Purtroppo da noi si è affermata l'idea che la politica sia in grado di risolvere qualunque cosa e che alla fine sia, basti cambiare il leader per avere risolto i problemi del paese. Così non è, cioè un paese è una roba veramente molto complessa, tutti i corpi sociali, stiamo parlando di una macchina estremamente articolata e la parte della politica che arriva ad occupare tutti gli spazi di comunicazione, viviamo in una campagna elettorale permanente, toglie spazio alle cose che sono veramente importanti. A me dispiace molto sentire parlare in questi giorni con tutta questa enfasi di blockchain, vi dico francamente, non perché non ritenga che sia importante, figuriamoci, è importante ed è bene che si parli di questa cosa, però viene portato come se fosse un esempio per dire ecco, questa è la punta della modernità, non è solo questo. La criptografia è una cosa fondamentale, arriverà dopo il machine learning, cioè tutto il tema dell'intelligenza artificiale diventa pervasivo nelle nostre vite come il computer, come Excel lo è stato, diventa pervasivo nelle nostre vite nel giro di pochissimi anni. Qualunque cosa, dal pezzo di hardware, dalla sedia al pezzo di software, avrà dentro un pezzo di machine learning, perché il machine learning è, cioè l'intelligenza artificiale è un modo diverso di fare software. Magari puoi dare in un minuto un messaggio a cosa dovrebbe fare la scuola? No, ma è questo, cosa deve fare la scuola? Deve fare più iniziative di queste, deve equalizzarsi di più, deve lavorare assieme per cercare di fare questa trasformazione. E il mio messaggio, se vogliamo, è negativo da questo punto di vista, nel senso che non aspettiamoci che ci sia un grande contributo, l'avevo detto in un modo più edulcorato, non aspettiamoci che ci sia un grande contributo, io non sono più in Parlamento, non sono più nel Governo, non sono più niente, non aspettiamoci che ci sia un grande contributo dalla politica, perché la politica è molto centrata su se stessa, quello che occorre è l'impegno di tutti, l'impegno di tutti voi e speriamo di non avere ostacoli, che non ci siano ostacoli e che soprattutto non si cambino direzioni da una parte all'altra. Mi rendo conto che non è un messaggio che sarebbe poi bellissimo poter dire, ah ci vuole questo che non accadrà, non accadrà, quindi ci vuole l'impegno, è una cosa molto lenta, è una cosa lunga, bisogna cambiare la consapevolezza delle persone, a partire dal basso e quello che lo potete fare di più, siamo tutti noi con tutto quello che andiamo in giro a evangelizzare, eccetera, e soprattutto voi docenti nelle scuole e i media e i giornalisti, e lì guardo qualche giornalista. Grazie, grazie Stefano.